31 di marzo 2018, saluti, benvenuti a Noasa in Curso, Carbonia, avuti i mattesi dirigenti del reparto di cardiologia dei sospitali di Sidai, affaici con uno cartello che ha esaminato di ecocardiologia che ha esaminato di ecocardiografo, che ha esaminato di ecocardiografo e che ha esaminato di un dottore specializzato in emodinamica cardiaca che ha esaminato di ecocardiografo. Sant'Antiogus, giunta comunale, ha rapprovato il Laca Nazanoasa del centro abitato di Sant'Antiogus e torna su Monti a Sannas. E' un altro passo, ha innantisi, appustisi della proposta di modifica del sovrano sulcisi deliberata sull'esito di marzo e comprazio del tutto il Consiglio Comunale, ha incinato da Sussindico Ignazio Locchi Giacciungiri, che è in modo appustisi delle approfazioni, delle linee a guida, delle pianificazioni, del suo orto, savetterà, aggiuro e collaborazioni delle altre sentisi. Carloforti, noi prevedi aver una promozione, voi non residentisi, in istratta, sa vortovesme Carloforte e Calasera. Carloforti, voi o custugo gira de Vasca e lunisi de Vasca, istarifasa isola d'inverno, desa compangia del Cormar, difattisi, puntacabarasa, subintisesi, demmarzo, vassau, sugomitau, isole minori della Sardegna, e ora pregò, tra s'assessorava e strasporto su dessa regione Sarda, i mattesi, si darifasa, voi residentisi e non residentisi, più che tutto, voi gustoso, che tenete sezienzioni del suo contributo di sbarco, e che in su, mattesi tempo, su siganta, is'iniziativa, sa promozionalisi, che vunti la sarasa, voi, isturistas. Portescusi, lombi in Timo Vasca, bonas novas a voi dipendentesi des arias adegrisi, da noz'assessora Virginia Mura, in un adobio con il sindacato, su che antilorrava naia i dipendentesi, che su di noi, des primi mesi des su 2018, era depilompi, in i buciacca, zadeghini, deni dereto, a intro de su mesi de Arbili. Narcao, 130.000 euro, e cantos a regioni Sarda, intra su progetto e scola, donera su comune, vossa miglioria des apposentos e desa scola, antalombi duncas a catedras, bancos, ugariras, e atrasainas ad importo, vossa attività didattica. Esi e usa fuori dai des scolas, Antoine e Swergiu, e noi, euro su 2400 mila, vossa amatessi razone, torri a parigiè es apposentos desa scola, desa infanzia, desa primaria, desa secondaria e del primo grado, il traballo su Antedevi Bastia all'estero, l'oneggi dei garasa, di appalto, già i vattasa. E l'ompeusa savagina dessa cultura, bida massagia, s'amministrazioni comunali, e la parigiè una dove uovo e dai dessa tutela, e del savaloramento dei matasa di oria, vossa recupero storico, monumentale e produttivo del sorte umano. Su convegno raccontessi giovia, 5 derbili 2018, ai 5 e mezzo, de Meri, in casa Feno. Carbogna, gustumeria e sesi, in sa biblioteca comunali, de Sarru Garzia, adesso verta sa mustra sotto e sopra, con il traballo su De Block, Bessero, Calabro, Cannella, Cara, Caria, Casula, Demusse, Derita, Dias, Filia, Fontana, Giancola, Lardieri, Matta, Masini, Cicanu, Vatkeva e Vigo. E questa avvierà s'ultima noa, grazie a buona vasca a tutti, e adios. Avivare, Alpload, Valde dagli, ecco, вниз, consultata, , parla 나, bnisch anh 않 ổi 點 la p